Il tema di oggi è quello appunto dell'alimentazione del territorio. È un tema importante per quello che è l'economia urbinate e l'idea appunto è quella di creare un evento che possa essere da una parte di approfondimento che è quella che sono gli interventi di questi professori e dall'altra che ha un aspetto anche ludico con un cooking show da parte di Giulia Brandi che ha partecipato alla sesta edizione di Mastership Italia ed è una ragazza locale di Fermignano. E tramite questi eventi noi vorremmo appunto unire quello che è l'ambiente universitario e quello che è la cittadinanza attraverso quelle che sono delle associazioni che lo fanno per puro volontariato e in dei luoghi diciamo particolari come ad esempio questo qui della Data che in questo momento sta ritornando a vivere dopo un periodo di chiusura. Innanzitutto ringraziamo i produttori che ci hanno dato dei prodotti ottimi per fare oggi l'evento qui al Data a Urbino e farò delle cose molto semplici perché a volte per valorizzare un ingrediente non bisogna per forza andarlo a sconvolgere quindi faccio un couscous di farro di Prometeo farro monococco molto buono e lo facciamo con degli asparagi selvatici visto che siamo in piena stagione un pomodorino confit e un olio aromatizzato e poi l'immancabile casciotta di Urbino e poi facciamo invece una pasta di giro lomoni un tortiglione saltato con una crema di piselli sempre di stagione e un ragù di farona bianco del tartufo e del porro fritto e poi un dolcetto perché è immancabile sempre con la farina di Prometeo di monococco mista e integrale e ho fatto un ciambellone semplicissimo alle fragole con una crema inglese e un po' di cioccolato bianco di accompagnamento sono degli ottimi prodotti e sono molto conosciuti la casciotta piano piano la facciamo conoscere perché ho tanti amici che tra l'altro sono in giro per il mondo che si sono andati alla crescita sfogliata quindi casciotta ovunque e il tartufo è un prodotto che anche a livello nazionale in realtà è molto conosciuto come tartufo però noi lo produciamo qui tra Urbino, Colagna, Fermignano è un altro prodotto rispetto al tartufo che si trova in giro per l'Italia ma è veramente eccellente e piano piano facciamo conoscere tutto L'introduzione a questa iniziativa è stata quella di cercare di capire come il sistema produttivo agricolo fosse un sistema da approcciare in modo sistematico e quindi dall'inizio, quindi dal seme, dalla produzione dei semi alla trasformazione di questi semi in maniera adeguata ovviamente preventivamente coltivati da una serie di agricoltori per cui parliamo di un processo produttivo che è un processo di filiera sono qui io a rappresentare come agronomo anche un'azienda locale che è la Prometeo di Urbino che ha sponsorizzato anche questa iniziativa che è un'azienda del territorio che ha circa 30 anni di storia che ha cominciato proprio nel lavorare sul territorio andando a ricercare vecchie varietà di farro cominciando a lavorare su questa pianta che era stata dimenticata dagli agricoltori e dagli utilizzatori valorizzandola nel migliore dei modi in un percorso scientificamente e tecnicamente corretto in un percorso di ricerca che ha impegnato risorse umane e finanziarie nel tempo per ottenere dei prodotti tradizionali da una parte quindi legati alla storia e alla cultura ma nello stesso tempo innovativi con forme diverse anche apprezzate dal consumatore non è detto che tutto ciò che è vecchio è per forza buono non è detto che tutto ciò che è biologico è per forza buono non è detto che tutto ciò che è integrale è per forza buono diciamo che è buono ciò che è sano ciò che ha un percorso di produzione tracciato ed è buono ciò che alla fine piace anche da mangiare La nostra è stata una sfida fin dagli anni 70 per rilanciare attraverso la cultura contadina il tema del ripopolamento delle campagne grazie all'agricoltura biologica Oggi l'agricoltura biologica per riprendere i temi trattati durante la giornata rappresenta appena quello che si vuole difendere in termini di diritti diritti di salute, diritti a un ambiente protetto diritti a un paesaggio diritti a un paesaggio che grazie all'agricoltura biologica è variegato e non vi è monocoltura Noi crediamo che quello che è stato fatto nella regione Marche in particolare nel nostro territorio tra Urbino e Isola del Piano sia un simbolo della rinascita delle campagne e possa essere preso come esempio di modelli agroecologici e sostenibili di lungo futuro